Come fai a proteggere un prodotto fragile come questo? Lo imballi! Lo imballi è un'azienda dinamica ed efficace nel rispondere alle esigenze dei privati ma anche delle aziende. Lo imballi non è soltanto imballaggio, abbiamo anche prodotti e servizi per le aziende come guanti, mascherine, vestiario anche personalizzato e scarpe per l'antinfortunista. Il nostro magazzino, efficiente e ben organizzato, ha prodotti sempre disponibili che siamo in grado di consegnare in tempi rapidissimi. Per ogni vostro problema abbiamo la soluzione!